Buona giornata, forse oggi siamo chiamati a sperimentare la potenza e la forza del silenzio. Il silenzio è importantissimo nella vita di ognuno di noi, che non vuol dire assenza di parole, ma vuol dire dare una pausa tra una parola e l'altra per poter interiorizzare, per poter meditare. Le più belle manifestazioni sportive, i più bei traguardi sportivi, sono avvenuti attraverso il silenzio, attraverso la concentrazione, attraverso il meditare. Siamo sempre sballottati dal tempo, sempre in fretta su una cosa o sull'altra, perché non ritagliarci oggi un momento di silenzio, per capire dove stiamo andando, ma per darne un significato ancora più profondo nelle cose che siamo chiamati a fare. Forse le assaporeremo di più e ne daremo un senso più vero. Il Signore ti illumini e ti benedica, sapendo che ti incontra Dio anche nel silenzio. Buona giornata.